In America, la polizia si impegna ad applicare la legge e a difendere i cittadini. Ma nelle strade, ognuno pensa a se stesso. Una squadra speciale della polizia di Los Angeles... La speciale non fa prigionieri, quindi se atterrate uno di quei balorti accertatevi che resti a terra. E' unita da un vincolo di fratellazze. Un pistolero in una famiglia di pistoleri. E dalla regola di compiere la missione ad ogni costo. Ho una missione per tutti. Giù a terra, subito! Come? Sono disarmato, davvero? È quella cos'è! Regola a cui nessuno si era mai ribellato. Fino ad oggi. Vorrei fargli ancora qualche domanda. Hai di fretta, Perry? Non è nel tuo stile. Stavolta è diverso. Il mio distintivo della polizia di Los Angeles non avrebbe più brillato. A fine giornata il cattivo era morto e noi no, signore. Mi farò buttare fuori. Sai quello che fa. Dichiaro guerra. Devi essere spietato in questo lavoro. Non ti nascondere dietro la divisa blu. Non è il tuo colore. Kurt Russell. Vi ha distrutti. E Bing Reigns. Riunirò un'unità operativa. Piomberemo su di loro come la furia di nostro signore. La pistola di mio padre. E questa città è cresciuta perché loro l'hanno costruita a pistoletà. Indagini sporche. Ce ne vorrà prima che si sistemi tutto. Vorrei sapere quanto ci vorrà per me. Parecchio. Grazie. 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 Grazie.